Il dottor Antonio Pagano sarà uno degli ospiti d'onore del settimo memorial dottor Michele Siani che si terrà il seluio a vetri sul mare. Il pediatra e vicepresidente nazionale della Confederazione Italiana Pediatri sarà protagonista della tavola rotonda dal titolo Ambiente Salute Giovani che si svolgerà nel pomeriggio presso l'ala consigliare del comune. L'incontro moderato dal dottor Arcangelo Sangese Tozzi si propone di promuovere una riflessione qualificata sul tema scelto dal comitato scientifico del premio. Al termine della tavola rotonda il dottor Pagano riceverà il premio Prendersi cura con il sorriso conferito alle personalità del mondo della medicina che si sono distinte per il loro impegno e la loro professionalità. Il premio realizzato in ceramica artistica vietrese sarà consegnato durante la serata dedicata all'evento Il ricordo di Michele Siani che vedrà la presenza della madrina Monica Sarnelli e del musicista Cristian Brucale. Un evento di grande rilievo che mira a celebrare la figura del dottor Michele Siani a promuovere la riflessione sul mondo della salute e dell'ambiente. Siamo giunti alla settima edizione del Memorial dottor Michele Siani. Anche quest'anno come gli altri anni si dividerà in due momenti. Un primo momento all'aula consigliare del comune di Pietrisulmare dalle 18 alle 20 con la tavola rotonda che quest'anno è intitolata Ambiente, Salute e Giovane. Dove ci sarà il direttore scientifico dottor Domenico Della Porta, a moderare la tavola rotonda ci sarà il dottor Arcangelo Saggese Tozzi che è il direttore del servizio prevenzione e sicurezza dell'ASL di Salerno. Quest'anno durante la tavola rotonda sarà premiato con il premio prendersi cura con il sorriso che è arrivato alla quinta edizione il dottor Antonio Pagano che è un medico pediatra, vicepresidenza nazionale della Confederazione Pediatri Italiani. A seguire ci sarà poi l'evento in Villa dalle 20 e 30 con un momento musicale grazie alla madrina ad eccezione che quest'anno sarà Monica Sarnelli. Insieme a Monica Sarnelli ci sarà anche il vietrese Cristian Brucale con la sua musica. Grazie a tutti.